Sembrava tutto fatto per Popovic al Milan e invece nelle ultime ore la Juventus si è inserita in maniera decisamente importante, tanto che l'affare con i rossoneri pare praticamente saltato. Cristiano Giuntoli ha avviato nella serata di ieri i contatti con l'entourage del giocatore classe 2006 e si è inserito a gamba tese in una situazione che fino a 24 ore fa era praticamente definitiva. A bloccare tutto sono state secondo indiscrezioni le alte richieste di commissione degli agenti, da capire quindi se la Juventus sarà disposta a pagarle anche perché Popovic è libero visto che il suo contratto con il Partizan è scaduto il 31 di dicembre. Questa giornata sarà decisiva per capire se la trattativa con la Juventus prenderà davvero piede.